Valorizzazione dei beni culturali, promozione dello sviluppo territoriale del turismo e nuove tecnologie. Sono questi i principali temi affrontati da Lubec 2014, la rassegna culturale che da dieci anni si pone l'obiettivo di promuovere il patrimonio artistico e ambientale della provincia di Lucca. Il 9 e 10 ottobre Lucca ospiterà ben 20 appuntamenti fra workshop, convegni, seminari e focus, finalizzati alla creazione di una rete internazionale di condivisione e crescita economico-culturale. A due giorni di evento è stata presentata questa mattina alla Fondazione CRL, dal Presidente della Fondazione Promo P.A. Gaetano Scognamiglio e dalla Vice Presidente Francesca Velani, dal Sindaco Alessandro Tambellini, dall'Assessore Provinciale Federica Maineri, dalla rappresentante della Soprintendenza Antonia Daniello, dalla rappresentante della Camera di Commercio Vittoria Emani e dal Vice Presidente della Fondazione BML, Giuliano Nierdi. La grande novità 2014 del Lubec è l'angolo Europa. Nell'anno del semestre di Presidenza Italiana riteniamo giusto dare a tutti i partecipanti un'occasione in più e quindi di poter scambiare opinioni, rapporti e progetti in modo da fare i partenariati per concorrere in modo fattivo alla nuova programmazione europea e per intercettare i nuovi finanziamenti.